Siamo qui con Cantieri, oggi tripletta per te, una prestazione di una importanza e soprattutto di una qualità elevatissima, però partiamo dal risultato, 6 a 2, ottima prestazione della squadra. Sì, oggi siamo riusciti a imporre, buonasera a tutti, innanzitutto oggi siamo riusciti a fare quello che vuole il mister, quello che abbiamo allenato in settimana e sono contento soprattutto per la predisposizione di tutti i ragazzi che hanno gettato il cuore, hanno combattuto su buoni palloni e abbiamo visto in campo, il risultato parla da sé. Tre gol, a mio avviso uno più bello dell'altro, una prestazione tua personale importante che ha permesso Le Pomeo oggi di trovare una vittoria importante. Grazie per il complimento, ogni tanto riesco a fare queste cose, speriamo che capita proprio spesso, però sono contento di poter dare una mano alla squadra con i tre gol. Ora si continua ad allenare, si continua a lavorare per l'inizio del campionato, dopo queste due partite che hai visto dal campo, secondo te Le Pomeo dove può arrivare? Guarda, noi partiamo con i piedi per terra e alleniamo sodo in settimana, abbiamo ancora una settimana e mezza per la prima di campionato e cercheremo di arrivare più in forma possibile per la prima partita. Grazie.